Ciao a tutti gli amici della classicissima artica, quest'anno il 2019 abbiamo scelto di venire alla ghettua acqua viva di Mussolini. Come potete vedere siamo alle pendici del monte Grappa, monte sacro alla patria, in un contesto naturalistico davvero spettacolare. Allora, abbiamo scelto la riva abbattuta dal sole non dal vento, per noi amanti e discepoli di Fausto Buccella. Come vedete il laghetto di Mussolini, nel lato nord c'è un piccolo ruscello che si mette e l'acqua va fuori invece nel lato sud, direttamente sul torrente che poi passa lungo la strada e questo assicura una buonissima ossigenazione della trota. L'acqua non è di colore limpido ma caratteristica dei laghetti di montagna di bassa vuota. Bene, come tecnica di pesca, pesca recupero con vetrino dai 3 ai 5 grammi di peso, terminale dello 0,16, un metro, un metro e cinquanta, amo del numero 6 come innesco o la doppia camola o pasta più camola. Proviamo così ed eventualmente poi tiriamo fuori la bacchetta magica. Grazie a tutti. 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 Proprio classicissimo Scusi che soffi Omg Ma come on and all Ahahahah Weitere Oh E' un metro mangelo di Ahahahah Ahahahah Come here Ahahahah ok 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 Grazie a tutti. 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 Sono fermo. Mabie, 6. 2. 2. 6. 8. 8. ,